Allora, tavolacci, due tavoloni belli, cammino, c'è un po' di legna grossa e anche legna da barbecue. Se potete portate a valle le cose. Siamo coloro che abbiano, diciamo, fabbricato questi tavoli portati su eccetera eccetera, adesso ho sempre una gran comodità. Qui c'è questa seconda stanza che c'è il pavimento di legno, ma addirittura questo rifugio è dotato di energia elettrica. Adesso vediamo dove sta l'interruttore, che è una cosa esagerata nel senso che... Vediamo un po' questo, accende questo, accendo pure quelle? No, ho capito perché qui non... Ah, ecco, ecco qua, rifugio di energia elettrica, lavoro in corso, non si sa quando termineranno, comunque lì c'è un pseudoletto a castello, il piano è di legno. Ci si può dormire, si sta benissimo, anche troppo. Allora, cominciamo la giornata. Ringraziamo il comune di un torno in parte. Se lo gestisce lui, altrimenti...